Il Sogno Rio ormai si entra prepotentemente nell'argomento Olimpiadi che inizieranno il 5 di agosto prossimo. Nel Sogno Rio c'è anche la squadra di basket. Perché? Perché si sta giocando a Torino nel concentramento proprio la possibilità di poter accedere alle Olimpiadi, al tabellone di basket delle Olimpiadi. Ieri sera la nazionale italiana guidata da CT Messina ha battuto la Croazia ed ora attende di sapere quale sarà la semifinalista che dovrà affrontare e che uscirà dal match fra Messico e Grecia. Ma pensate, una nazionale così probabilmente l'Italia non l'ha mai avuta neppure dai tempi di Meneghini. Ieri sera il quintetto iniziale era Hachet, Bellinelli, Gallinari, Datome e Bargnani. Sono cinque giocatori che sono stati richiesti a più riprese anche in America. Qualcuno ci gioca già. Comunque in ogni caso giocatori che non sono qualcuno non è più in Italia perché in America qualcun altro non è in Italia ma gioca nelle più grandi squadre europee. E allora viene da chiedersi ma perché dover fare il corso di riparazione e di qualificazione. Io credo che l'Italia se diventerà squadra e vale il discorso di Conti potrà fare una grande Olimpiade.